Ciao a tutti amici di Amazon, piccolo unboxing e devo prendere su questo IPL Ice Cool Air Remover ovvero un depilatore laser, quindi non vi strappa i peli ma li brucia diciamo alla radice prodotto che costa la bellezza di 90€, adesso vi mostro cosa c'è all'interno della confezione allora abbiamo la scatola, ok, allora abbiamo il nostro depilatore e poi dentro abbiamo il nostro questo non so proprio che cosa serva, manuale di istruzioni utile, poi cosa abbiamo? abbiamo il cavo di alimentazione che appunto serve per alimentare il dispositivo dato che non ha una batteria quindi deve essere sempre collegato alla presa, poi avete degli occhiali da sole o per modo di dire degli occhiali protettivi che fanno veramente schifo che servirebbero a proteggervi dalla luce che emette il laser poi avete anche una lametta, sempre anche questa usa e getta, molto mediocre e vi serve appunto perché è consigliato utilizzare il depilatore ovviamente prima però dovete radervi, quindi la zona interessata che voi dovete depilare, per esempio il petto, voi prima la rasate con questo e la schiuma e successivamente passate con questo qua allora il dispositivo funziona in maniera molto semplice, adesso lo colleghiamo alla corrente e vi mostro eccomi qua tornato, collegata alla corrente adesso noi lo tiriamo fuori, ok, ecco qui come si presenta il l'epilatore, questa qui sarebbe la parte che emette la luce, ok, avete quattro pulsanti, tre pulsanti quindi pulsante per fare emettere il flash che vi brucia i peli, poi avete questa opzione qua del fiocco di neve che vi attiva questa placca qui che contorna il flash, la quale si raffredda, la quale così vi da un po' di solievo sulla zona che voi andate a scaldare col flash e dopo si raffredda con la placca in ferro questo qua invece serve per aumentare il livello di intensità del flash quindi voi continuate a premere, lui fa livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5, poi riparte livello 1, livello 2, livello 3, livello 5 ok, adesso lo colleghiamo e vi mostro con il display acceso, voi lo collegate e lui si accende, ok appena lo accendete lui è in off, quindi voi premete on che è questo e lui, scusate per qualche secondo ok è partito, adesso lui è acceso, vedete che è su 1, questo qua sarebbe il livello 1 se voi ci cliccate sempre su questo pulsantino, vedete, 2, 3, 4, 5, cliccate di nuovo, torna indietro, 4, 3, 2, 1, ok questi qua sono il numero di flash che può fare il vostro dispositivo, cosa significa? lui è partito da 999.000 flash, io ne ho fatti circa una trentina per provarlo con questo qui vi ho spiegato che attivate appunto il raffreddamento, quindi questa zona qua è già quasi congelata io penso che se non è 0 gradi si avvicina, ecco, comunque è veramente fredda appunto che ha lo scopo di rilassare la zona la quale viene colpita dal flash adesso quindi se vado a premere questo bottone, questo emetterà un flash, guardate adesso lo tengo a 1 così non dà tanto fastidio ecco, lui deve per forza avere qualcosa che sia a contatto con questa superficie per mettere il flash se vuoi premete a vuoto non fa niente, se ci mettiamo uno sopra, vedete, vedete io sento comunque già a livello 1 che la mia mano si scalda, cioè io sento già caldo quindi pensate voi alla massima potenza, cosa significa? e di fatti io potrei farvi anche vedere, vediamo se riesco a farvi vedere allora io adesso provo a farlo sulle mia mano così che vi mostro cosa succedono ai peli che vengono colpiti da questo flash aspettate che tolgo l'orologio allora vi faccio vedere, allora vedete, metto un po' più vicino alla telecamera ok, vedete i peli? questi sono i miei peli sulla mano, vabbè, non importa adesso metto a una potenza un po' più elevata così che voglio che si veda qualcosa adesso io farò così, guardate ok, io comunque, aspettate che lo spengo adesso purtroppo non si vede tanto però io vi posso garantire che a parte che ho sentito un po' di rossore ma a parte che sento un po' di puzza di bruciato ma i peletti si sono, come si può dire, a parte che mi si sono completamente carbonizzati quindi dovevo mettere una forza più bassa comunque, se ve lo provate su... adesso qua sono troppo folto comunque se lo fate un po' più insistentemente ce lo fate su tutta questa zona qua magari per esempio i peli si attorcigliano sapete, vedete proprio che i peli si attorcigliano come che abbiano ricevuto tipo un trauma, ecco io adesso lo spento per spegnerlo è molto semplice vi faccio vedere, adesso lo riaccendiamo lui si accende per spegnerlo voi li premete tenete premuto un po' di secondi lui fa un countdown di 10 secondi vedete? fino a quando arriva a zero e si spegne allora, le ventole vi consiglio di non appoggiarle su una superficie perché se no vanno in sofferenza è come un phone, quindi le ventole dovete lasciarle libere ripeto, questa zona qua la sento un po' strana la sento calda perché appunto l'ho traumatizzato un po' ecco, comunque ripeto, il prodotto funziona e sta solo a capire se i peli veramente non crescono più perché il manuale garantisce dei risultati dopo 8 settimane di trattamento quindi voi dovete radervi utilizzarlo prima settimana utilizzarlo la seconda settimana la terza, la quarta, la quinta fin quando non bruciate diciamo la matrice che genera il pelico prodotto carino non resta solo che attendere le 8 settimane e vedere se veramente funziona ed è una valida alternativa al silk e pill che fa un po' male o alla lametta e schioma la quale si virade ma dopo neanche una settimana massimo due cominciano già a crescere i peletti quindi bisogna valutare appunto se è un valido prodotto un saluto da Thomas e vi aspetto qui sotto con la recensione iscritta ciao a tutti